Ciao a tutti amici di Playa Latina, voi non ci crederete mai oggi, sono al Bochera Camp Festival e ho trovato un'altra scuola che quest'anno ha partecipato alla nostra buon corso Palatina 2014 e sono qui con i bellissimi ragazzi e ragazze della Valcino Country Dance Come è stato gareggiare? Non pensavo che fosse una gara così importante, come vi sentite quando siete lì dove dovete gareggiare? Ma io lo chiederei alla ragazza perché è già più grande, ma che secondo me sono emozionatissimi anche loro La paura è una bontà, parecchia, parecchia Quanti mesi provate per fare una burocrazia di questo tipo? Quello spiego io Due giorni Calcola che abbiamo fatto le prove, l'ultimo mese, però l'ultimo mezzettino che abbiamo provato stamattina Come bravi complimenti ai miei ragazzi perché hanno appreso i miei tessuti Quindi voi siete andati in pista e lui va 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 va, l'ultimo pezzetto ve l'ha spiegato stamattina No ma l'ultimo pezzetto stavamo entrando Un applauso applauso Facciamoci un applauso perché sono dei grandi e è venuta benissimo Che cosa ti aspettate come posto? Infatti diciamo che è veramente un cuore perché tornarsi in una diversione italiana Quindi sono anche austriaci, ungheresi, spagnoli, francesi Ungheresi 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 Poi ci sono lì dietro che voi non avete sentito che fate gemellati con le ungheresi Non con gli ungheresi Allora io sono tanto contenta perché sei già venuto a Tele Santiano per Pai Latina E devo dire che quella giornata lì è stata incredibile perché gli sms che sono arrivati hanno fatto andare tipo il centralino C'era Maurizio Rizzi con le mani nei capelli e mi ha fatto molto piacere rivederti e rivedervi tutti qua Aspettiamo perché non sappiamo ancora quale sarà l'esito e dovranno ancora premiare Poi ve lo posterò su Facebook Un messaggio a Maurizio, abbiamo Miss Fidenza Oh lei! In anteprima oggi è il Vulgar Country Festival Miss Fidenza per Maurizio Rizzi, quindi Maurizio ti posterò anche lei che si chiama? Nakita Nakita, ti posterò Nakita così la prossima volta viene in studio con noi Grazie, grazie, grazie Alla prossima Ciao